sul canale ho visto in questi mesi accendersi tante discussioni anche piuttosto infervorate su quale fosse il miglior browser a detta dei vari utenti e ho sentito una serie di interessantissime opinioni personali dell'uno e dell'altro così ho deciso di proporre una piccola sfida una piccola sfida tra browser paragonando secondo criteri invece oggettivi ed utilizzando dei siti specifici tutti quanti i browser maggiormente utilizzati come chrome firefox brave browser opera e così via per cercare di capire quale sia il migliore e allora andiamo a vedere insieme qual è il browser migliore del 2023 ti senti pronto iniziamo come prima cosa sarebbe opportuno definire quali siano i criteri oggettivi che decretano il fatto che un browser sia migliore rispetto ad un altro ebbene a mio avviso questi criteri sono quattro il primo è la stabilità del browser ma devo dire che siamo giunti ad un livello tecnologico tale per cui se non utilizzi in netscape o internet explorer versione 1 direi che ormai praticamente nessun browser si impalla sistematicamente o genera errori quindi questo criterio possiamo escluderlo il secondo criterio probabilmente può essere la flessibilità cioè la quantità di plugin che un browser può implementare in modo da venire incontro alle esigenze dell'uno o dell'altro utente ma anche questo resta un criterio abbastanza soggettivo perché le esigenze di un utente non saranno sicuramente uguali a quelle di un altro quindi mi sento di escludere anche questo criterio e di lasciarlo alla tua discrezionalità sulla base di quelli che sono gli utilizzi che tu fai del tuo browser il terzo criterio può essere sicuramente oggettivo ed è la velocità la velocità è importantissima nel momento in cui dobbiamo aprire pagine web molto pesanti e gestirle magari anzi soprattutto a livello professionale il quarto ed ultimo criterio ultimo solamente nell'elenco ma probabilmente da considerare per primo è la sicurezza del browser ebbene ho deciso di utilizzare due siti che sono browser audit e browser bench che sono considerati i benchmark ufficiali per questi due fattori per quanto concerne i browser e allora non perdiamo altro tempo e andiamo a testare i nostri browser per vedere chi vincerà questa sfida direi di cominciare da un browser che è sicuramente tutti quanti abbiamo installato sui nostri computer anche perché microsoft ce lo impone e quindi partiamo con l'aprire microsoft edge e andiamo ad eseguire questi due test ti anticipo che per non sommergerti di musichette siccome i test non sono esattamente velocissimi da fare li accelererò moltissimo nel video in modo da saltare quasi direttamente ai vari risultati cominciamo ed eccoci qui con microsoft edge aperto sul pc abbiamo aperto naturalmente e faremo lo stesso anche per gli altri browser solamente questo browser qui e sul browser abbiamo aperto contestualmente le pagine browser audit punto com e speedometer 2.0 la prima serve a misurare la sicurezza del browser mentre la seconda a testarne la velocità su ciascuno dei browser faremo prima il test della sicurezza e successivamente quello della velocità andando a sommare i due punteggi e sottraendo le eventuali penalità che come vedremo tra poco possono essere attribuite ai browser soprattutto per quanto concerne la sicurezza cominciamo ed ecco fatto il primo test è terminato che cosa ha fatto questo sito ha provato una serie di falle potenziali di sicurezza su questo browser individuandone 401 come sicure e quindi non vulnerabile mentre su altre 30 ha individuato dei warning cioè dei potenziali rischi attenzione i warning sono molto meno gravi rispetto naturalmente ai critical mentre gli skipped indicano i test che non è possibile effettuare su un browser e quindi verranno anche essi sottratti io direi che possiamo sottrarre un punto per ciascun warning o skipped ricevuto mentre andremo a sottrarre ben 5 punti per ogni critical ricevuto dai vari browser perché i problemi critici sono naturalmente delle vulnerabilità molto importanti a differenza dei warning e degli skipped che vanno ad impattare pesantemente sulla sicurezza del browser se avrai voglia sul tuo computer di andare a leggere i punteggi e i test nel dettaglio che dovrebbero essere uguali per ciascun browser ti basterà cliccare su test details e come vedi ci saranno elencati tutti i test e tutti gli esiti dei test che sono stati effettuati sul relativo browser nel nostro caso ci limitiamo ai punteggi di base quindi possiamo dire che per quanto riguarda la sicurezza microsoft edge ha un punteggio di 401 meno 30 i calcoli li facciamo dopo a questo punto chiudiamo browser audit e restiamo solo con lo speed o meter aperto per non andare in alcun modo ad inficiare il test di velocità per correttezza ti dico anche che sono tutte quante installazioni pulite di questi browser che potrai ripetere tranquillamente a casa tua e che non sono stati installati plugin di sorta quindi dei browser installati solo con le opzioni di base avviamo quindi il test della velocità e attendiamo che termini ed ecco calcolato anche il fattore di velocità di microsoft edge che è in questo caso di 351 passiamo al prossimo browser il nostro secondo concorrente è firefox come vedi anche in questo caso ci ha aperto solamente lui e sono aperte le due stesse pagine che avevamo aperto anche su microsoft edge partiamo con i test ed ecco che anche mozilla firefox ha terminato con un punteggio di 404 test passati 24 warning e tre test saltati quindi il punteggio complessivo sarà 404 meno 24 meno 3 chiudiamo questa pagina e passiamo allo speedometer prima di cliccare su start test ti preciso un'altra cosa che non ti ho precisato in precedenza e cioè che questi test non vanno a misurare la velocità di internet ma solo la velocità con cui il browser esegue determinate applicazioni quindi sarà indifferente la velocità della linea ma conterà solo e semplicemente la capacità del browser di completare queste operazioni iniziamo il test ed ecco terminato anche il test di velocità di mozilla firefox che totalizza 331 andiamo al prossimo browser ed eccoci a brave browser come vedi è aperto anche in questo caso solo questo browser con le stesse due pagine passiamo subito al test di sicurezza di brave browser che ha passato con successo 401 test accumulando però 30 warning che saranno come sempre sottratti al punteggio chiudiamo questa pagina e passiamo alla misurazione della velocità e per quanto riguarda la velocità il nostro concorrente si attesta su un punteggio di 346 e siamo giunti a testare google chrome vediamo come se la caverà avviamo subito il test di sicurezza è finito anche il test di chrome con 401 prove superate e ben 30 warning accumulati che come sempre saranno sottratti dal punteggio finale chiudiamo anche in questo caso la pagina e avviamo il test di velocità e spero di non avere qualche foglia di insalata tra i denti perché mi sono ridotto a mangiare questa mentre ti annuncio che chrome ha conseguito un punteggio di velocità pari a 433 ed eccoci all'ultimo concorrente del giorno opera che andiamo subito a testare per quanto concerne la sicurezza e anche nel caso di opera abbiamo un risultato sovrapponibile ai precedenti 401 test passati e 30 warning chiudiamo la pagina e passiamo subito al test di velocità ed ecco che la velocità rilevata per il browser opera è di 354 andiamo a tirare due somme ed eccoci finalmente alla nostra classifica finale partiamo dal fondo e vediamo che il quinto classificato è firefox con un punteggio di 377 in sicurezza e di 331 in velocità a seguire al quarto posto abbiamo brave browser con un punteggio di 371 in sicurezza e di 346 in velocità ed arriviamo al podio che vede nella terza posizione microsoft edge con un punteggio di 371 in sicurezza e 351 in velocità al secondo posto si attesta opera browser con i punteggi di 371 per quanto riguarda la sicurezza e 354 per la velocità e come avrai intuito al primo posto c'è proprio lui google chrome anche lui come tutti i chromium con un punteggio di sicurezza di 371 ma con uno strabiliante 433 per quanto concerne la velocità sicuramente una consolazione importante per gli affezionati utenti di firefox e che questo browser è risultato in ogni caso più sicuro rispetto a tutti gli altri chromium pur non avendo completato tre test di sicurezza per quanto concerne la velocità e il punteggio complessivo in ogni caso la corona va a google chrome che si è attestato e si conferma come il browser migliore sulla base di questo test del 2023 prima di congedarci ho alcuni graditi doveri da compiere prima di tutto quello di ringraziare e dare il benvenuto nel club dei gentiluomini a claudio francini giuseppe sanzo e francesco nanocchio un benvenuto a tutti ragazzi per quanto riguarda invece i super grazie la mia infinita gratitudine va a maurizio pitrolo fabio di santeodoro stefano petrolini in arte petrus e remo bruni e cesare di candia vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto alla community e come sempre l'ultimo ringraziamento è rivolto a te che hai guardato questo video mi hai tenuto compagnia fino a questo punto e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima